La SIDEMAST, la società italiana di dermatologia medica, chirurgica ed estetica delle malattie sessualmente trasmesse, fa quest'anno da padrone di casa per un appuntamento prestigiosissimo, il congresso mondiale di dermatologia che si tiene proprio in Italia, qui a Milano. Ma che cos'è la SIDEMAST e che cosa fa? Noi l'abbiamo chiesto al suo presidente, il professor Pier Giacomo Calzavara Pinton. Professore, innanzitutto, che cos'è la SIDEMAST? La SIDEMAST è la più vecchia società scientifica dermatologica al mondo, è stata fondata nel 1885, nel 1926 è stata riconosciuta come ente morale e ancora adesso rappresenta il punto di riferimento per i dermatologi italiani. Qual è la mission della vostra società scientifica? La mission è quella di rappresentare la branca specialistica a livello istituzionale, a supportare l'aggiornamento continuo e a supportare quelle che sono le attività di ricerca dei centri più elevati della nostra attività. Ecco, che cosa fa la società? Quali sono le attività più importanti di carattere scientifico? La società garantisce delle borse di studio ogni anno a gruppi di ricerca, garantisce il coordinamento delle attività tra i corsi, garantisce la possibilità di iscriversi a registri di patologia o a registri di terapia, gestisce l'unica rivista italiana che è registrata a livello internazionale con un proprio impact factor e quindi fa tutto quello che può essere utile al dermatologo nella sua professione, gestisce anche la possibilità di avere interventi assicurativi, di avere incontri, organizza gli incontri per i gruppi che si interessano di specifiche aree della nostra specialità, piuttosto che i gruppi regionali e quindi il confronto anche con le autorità regionali in una situazione come quella italiana. Ecco, invece come SIDEMAST, che cosa fate per farvi conoscere dalla popolazione e per far conoscere le malattie della pelle alla popolazione? Partiamo da un dato a monte. Il dato a monte è che ci siamo accorti che sulle malattie della pelle, su internet piuttosto che sui giornali, esistono molte notizie false e in molti casi, cioè non supportate da dati scientifici e in molti casi anche tendenziose, nel senso che poi portano a comportamenti o cure che possono essere pericolosi. Quindi noi abbiamo deciso di sponsorizzare quelle campagne di informazione che sono portate avanti da gruppi nostri piuttosto che da altre associazioni e fondazioni, comeppure abbiamo deciso di iniziare un'attività di informazione per il grande pubblico che si articola in un canale su YouTube, in conferenze stampa, in materiale informativo che viene distribuito al consumatore e poi anche con un'attività, una sezione sulle fake news che abbiamo aperto sul nostro sito. Quindi se un paziente vuole sapere una notizia, poniamo una malattia qualunque, può andare a controllare sul nostro sito se le voci presenti su altri siti sono veritiere o meno. Milano quest'anno ospita un appuntamento fondamentale per voi dermatologi, il congresso mondiale di dermatologia. Cosa si aspetta da questo congresso e quali saranno le tematiche più calde, più importanti che verranno affrontate? Potrei dire finalmente di nuovo in Italia, dopo il 1912 a Roma che fu la prima volta, poi Venezia ai primi anni 70, di nuovo in Italia. Uno delle poche nazioni al mondo che ha avuto l'onore di ospitare questo congresso per tre volte. Le novità saranno soprattutto per quanto riguarda il lato diagnostico, quindi le nuove tecnologie, dalla microscopia confocale piuttosto che alla dermoscopia, piuttosto che alla tomografia ottica e quant'altro. Saranno novità centrate sulle nuove terapie, nuove terapie sia sulle patologie infiammatorie, da alcuni anni abbiamo dei trattamenti biotecnologici per la psoriasi, adesso questi si sono migliorati ulteriormente, ma le indicazioni con altri farmaci si sono allargate ad altre indicazioni molto diffuse come la dermatite atopica per esempio. Ci aspettiamo un grande progresso anche nel campo delle terapie oncologiche e virologiche. Infine non dimentichiamo le tecniche diagnostiche per quanto riguarda le malattie congenite.